maratona si è avvalso quindi? è stato zitto? non ha detto niente? come mai? non c'è niente per quale motivo? chi ci vede? sono un biffo ciao ciao ti dico cosa ha detto? e quindi avvocato? ci dico solo due pazzi come si sente? viffo perché? si è stato chiesto viffo si sente un viffo perché si avvalcia? perché si avvalcia la proprietà di un'unione? vuoi essere per voi io ma perché ha scelto una risposta? ma non ci manca dentro 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 niente senta ma preoccupate conferma tutto quello che ci ha raccontato prima conferma tutto e ragazzi sono arrivati? conferma quello che ha sempre raccontato posso passare? sono tiziani sono tiziani la cattella bravissima non lo so non lo so non lo so non lo so davanti al magistrato della facoltà di non rispondere niente meno risponde a voi giornalisti grazie ma una domanda che si fa tutta Italia i motivi insomma i motivi è una scelta difensiva Antonio una domanda che si fa tutta Italia semplicissima è lei l'assassino di sua moglie non si può grazie